non dimenticarti di iscriverti al mio canale youtube abbapadre.it cliccando sul pulsante iscriviti e di cliccare sulla campanellina e di cliccare su tutte in modo tale che quando usciranno nuovi video sarai aggiornato con una notifica direttamente da youtube sul nuovo video del mio canale ovviamente potrai iscriverti sia con il tasto sul canale oppure andando in un video scendendo sotto e cliccando nello stesso modo sotto il video iscriviti su youtube presente con la campanellina a fianco grazie messaggio di san michele arcangelo all'uzio de maria il 4 marzo 2021 fratelli e sorelle vi invito a pregare per gli attacchi che stiamo ricevendo tutti da parte del demonio e a restare saldi nella fede io per primo andrò avanti con la divulgazione di questi messaggi e metto nella preghiera soprattutto tutti voi che mi giudicate per tutte le volte che sbaglio nel parlare a causa di qualche errore grammaticale che compio con le mie labbra e a causa del vostro giudizio non vi giudico ma vi porto nelle mie preghiere e spero che questa sia un'opera gradita alla divina volontà che richiamiamo in noi a parlare a pensare a leggere affinché attraverso la nostra volontà unita a quella della divina volontà le nostre azioni possano possano essere di riparazione per coloro che leggendo scrivendo ascoltando non si fondano con la divina volontà con gesù con maria con san giuseppe messaggio di san michele arcangelo all'uzere maria il 4 marzo 2021 amato popolo di dio ricevete la benedizione che proviene dalla mia fedeltà alla trinità sacrosanta la nostra regina e madre dei cieli della terra vi tiene sotto il suo manto materno voi non siete soli la protezione divina è continuamente operante in ciascuno di voi per questo è necessario essere in stato di grazia quindi andiamo a confessarci più spesso cerchiamo di vivere l'amore attraverso la preghiera e le opere e le opere devono essere anche a favore non solo del nostro prossimo ma anche della natura l'umanità è sull'orlo del caos la terra è minacciata dai vari corpi provenienti dallo spazio e che hanno influenza sul clima sui vulcani sulle faglie tettoniche della terra sul corpo umano e sugli animali coloro che hanno vissuto nell'opulenza e nella sicurezza economica sono passati adesso a vivere la fragilità dell'economia e a constatare quanto la terra sia distruttibile voi vedete il sole irradiare e far risplendere la sua luce nel firmamento ma il sole adesso è in agitazione come tutto il resto della creazione e a causa delle sue eruzioni sta producendo tempeste magnetiche ed eruzioni di massa coronale l'astro del sole cambierà e poi vivrete quello che succede sempre prima di un cambiamento che sta avvenendo in questo momento il campo magnetico della terra si indebolirà fino a raggiungere il punto in cui le comunicazioni e le reti elettriche dovranno verranno annullate e in contemporanea ci sarà una fortissima eruzione vulcanica pentitevi adesso riconciliatevi e convertitevi e non tornate ad allontanarvi dalla verità perché quello che vi è stato annunciato si compirà e ciascuno di voi dovrà portare il peso delle prove future per l'umanità e allora vi sentirete persi e abbandonati non della divinità né dalla regina e madre dei cieli maria santissima e della terra ma questo lo dovrete imputare voi stessi che non avete obbedito romani 5 10 persone di poca fede dovete restare saldi lungo il cammino la fede deve farvi rimanere in piedi senza dubitare di fronte al dubbio il demonio vi trascina per terra e vi per quote ovviamente quando troviamo nei messaggi di luce de maria in queste imputazioni al vangelo ebbene ognuno di noi prendi il vangelo e quindi vada a leggere il passo in base al paragrafo in questo modo i messaggi che ci vengono dati dal cielo risultano più comprensibili in base al momento storico che stiamo vivendo ogni persona ha una missione da compiere sulla terra e questo è il momento di prenderla sul serio tenete presente che sta arrivando il momento in cui a causa dell'urgenza dell'elite mondiale di tenere l'umanità sotto il suo controllo sarà impossibile per i figli di dio trasferirsi da un paese all'altro voi non andate in panico ogni figlio di dio sarà protetto ovunque si trovi ad ogni rifugio dei sacri cuori arriveranno le persone che devono arrivare così come le case consacrate ai sacri cuori se state vivendo nel compimento della divina volontà sono e saranno protette popolo di dio questo è il momento del risveglio delle coscienze e di prepararsi per gli attacchi che il male scaglierà su tutta l'umanità siete in tempo di quaresima continuate a pregare e fare riparazione ed interiorizzare il comportamento il modo di agire quotidiano e migliorare questo per voi creature di dio il momento del massimo sforzo l'arca è stata costruita io ho chiamato in continuazione l'uomo perché li entri con fede e continui a supplicare l'arca è quella preghiera attiva dell'azione dell'amore per il prossimo della certezza della fede della retta via cosicché vi prepariate e non rimaniate paralizzati davanti allo cisma che si sta avvicinando popolo di dio non dite è una bella giornata perché vedete il solo brillare non dite è nuvoloso perché non vedete il sole brillare il sole sarà offuscato da una grande eruzione volcanica preparatevi e non dimenticatevi che sarete esaminati mediante quell'atto di misericordia divina che il grande avvertimento in seguito arriverete a gustare del paradiso anticipato in seguito amato popolo di dio non temete non temete voi siete sul palmo delle mani del dio uno e trino non temete noi stiamo proteggendo ciascuno di voi in particolare il dio un e trino sa mica l'arcangelo ave maria purissima concepita senza peccato commento di rose de maria fratelli san michele arcangelo nella sua fedeltà a dio ci parla con l'intento di raggiungere la nostra anima e parla ciascuno di noi in particolare in quanto l'essere umano si rifiuta di vedere la realtà che si sta vivendo in questo momento così cruciale noi facciamo parte di una generazione che ha visto cambiare la realtà da un momento all'altro e che si è trovata di fronte a linea guida che mai avremmo immaginato san michele ci chiede di continuare in un costante rinnovamento e di non perdere la fede ma di aumentarla e di farla crescere sulle basi solide della conoscenza che è stata data nella sacra scrittura la cui parola è immutabile ci ci allerta sui rifugi e ci chiede di non entrare nel panico perché una casa in cui si vive l'amore di cristo dove la madonna rimane il modello da seguire e dove ci si è consacrate i sacri cuori quella casa è già un rifugio ma prima di pensare ai rifugi per salvaguardarci dobbiamo pensare rimanere nella prassi continua dell'amore nei confronti di dio e del prossimo stiamo vivendo un momento speciale che l'umanità non ha più vissuto dalla redenzione ed è proprio in questo momento in questa era dello spirito santo che dobbiamo santificarci e per farlo dovremmo passare attraverso il croggiolo chiediamo la grazia della perseveranza amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti